Ferro di Cavallo, ex fortino dello spazio di droga Pescara. Secondo il cronoprogramma, la demolizione delle tre palazzine iniziata a martedì scorso sarà completata a fine agosto. Oggi le ruspe sono tornate al lavoro alla presenza di autorità regionali, comunali, tecnici, vigili urbani e personale dell'Ater, proprietaria del complesso. Al posto delle tre palazzine verranno costruiti due edifici per un totale di 54 alloggi. Sentiamo il presidente, Mario Lattanzio. Poi ci sarà una nuova graduatoria, come funzionerà per chi dovrà entrare? Le assegnazioni vengono fatte con i graduatori, la graduatoria viene fatta dal comune che è l'ente preposto, dura due anni la graduatoria e quindi in base a questa graduatoria ci saranno le assegnazioni. Una cosa importante è che qua c'è un pieno lavoro insieme alla regione e al comune stesso perché altrimenti queste cose non si potevano fare. Era un impegno preso a suo tempo qualche anno fa nel 2020, come pubblica amministrazione siamo contenti perché abbiamo rispettato i tempi e quello che avevamo promesso all'inizio. Parliamo anche di numeri perché sicuramente l'investimento è ingente sia per la demolizione e soprattutto per la ricostruzione. Sono fonti Cipe, parliamo di circa di 8 milioni di euro, di cui un milione e mezzo complessivo per la demolizione, la rimanenza per la costruzione di 9 alloggi, circa 6 milioni e 800 mila euro. Quindi sono fonti dello Stato. Tempi invece per la costruzione delle nuove due palazzine? Il progetto definitivo è stato approvato il 28 giugno, adesso dobbiamo fare l'esecutivo e sarà cura del Lente Ater, quindi internamente sarà progettato e poi andiamo in appalto. Io presumo entro settembre di andare in gara e poi Tempitec c'è la gara, quindi speriamo prima della stagione invernale di iniziare anche la costruzione di queste palazzine. Non solo alloggi, ma anche una piazza, un parco e altri servizi, come dire una riqualificazione profonda che interesserà anche altre zone periferiche della città, come rivendica il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Il ferro di cavallo andrà a terra, nasceranno degli spazi aggregativi e degli immobili concepiti in maniera diversa e che avranno un utilizzo non solo privato, ovvero come abitazione, ma anche come erogazione dei servizi pubblici. E' l'inizio di una riqualificazione che riguarderà tutte le aree periferiche, cosiddette la città di Pescara ed in particolare questo quartiere. Si dice, ma tanto i reati si spostano da qualche altra parte. Questo intanto non è compito di un'amministrazione né comunale né regionale occuparsene perché di reati se ne occupano organismi dello Stato, adesso deputati. Man mano che il brutto viene portato via, anche chi delinque si sposta e prima o poi si scopre e quando si scopre qualcuno l'arresta.